La redazione di Ravenna e Faenza Web TV si associa allo sdegno corale per l'attentato terroristico alla sede del giornale satirico francese Charlie Hebdo, condannando fermamente qualsiasi attacco venga fatta alla libertà di stampa o di espressione e alla libertà umana generale. Ci stringiamo inoltre intorno alle famiglie dei 12 colleghi uccisi, forgendo le nostre più sincere condoglianze e auguriamo un grande bocca al lupo agli altri 8 colleghi feriti. Come giornalisti non possiamo che raccontare quello che ogni giorno succede nel mondo, ma oggi ancora di più come uomini e donne ci stringiamo attorno a quelle famiglie e rifiutiamo l'idea che si debba morire per difendere la libertà di esprimere il proprio parere, di raccontare storie e di riportare la realtà. Anche in maniera satirica come facevano e speriamo torneranno a fare i nostri colleghi parigini.